Destra 4, 30 e ripete lungo, per sinistra 3, sinistra 3 eccolo, e sudosso, destra 3, lunga giù, per sinistra 5, sudosso, destra 5, per sinistra 5 lungo, e destra 5 lungo, apre lunga, occhio, e attenzione per sinistra 2 più, anche la sera questa, per destra 2 più taglia sale, 30, sai a destra, per sinistra 4, che apre 5, via via, palanar, destra e sinistra 5, per destra 5 sale, attenzione, sinistra 3, 3 qua, 3, apre 5, lunga e sudosso, meno, per subito la croce, destra 3, E accenno sinistro, e al palo destra, piena, lunga, 50, e allo specchio destra 4, meno meno, lunga, tieni, sinistra piena, e destra piena, 50, e al palo sinistra 3 più, lunga vai, e al cartello occhio destra 3, lunga lunga, alla fine chiude, 80, accenno sinistra, e al posto sinistra, piena, 80, e allo steccato sinistra 2, lunga, lunga gira, forse è sporca, attenzione, e alla pianta destra, piena, indosso di tarda, 50, e al ceno sinistro, e al ceno sinistro, e al ceno sinistro, e al ceno sinistra, e alla pianta è tornante a sinistro, 80 e a rei destra 3 chiude 2 lunga gira e al punto sinistra 2 lunga gira ritarda 80 destri e a fine muro sinistra piena occhio stringe 50 e destra piena pieni 50 e destra 3 più lunga vai ritarda e al cartello sinistra del più apre in cambio strada destra piena indossi 100 destri e al posto sinistra 3 più vai destra 3 lunga buona e al punto sinistra piena molto lunga pieni 50 accenno destro sinistra piena e destra piena e al posto sinistra 4 meno meno occhio e al buco accenno sinistra e destra 4 meno meno molto occhio 50 e destra 4 meno tieni per sinistra 3 più lunga lunga e al piante sinistra 3 più lunga lunga tieni 50 e destra 3 lunga apre e destra piena sinistra piena e ai cartelli destra piena ritarda occhio interno 80 80 e destra 2 lunga lunga gira 100 e sinistra 2 lunga e ai ratanti per sinistra 2 lunga lunga gira testa piena lunga protesta tecnología lunga lunga gira, sinistra piena, è duro sinistra 2, lunga lunga gira e apre, 50 destri, e al cartello destra piena, destra 3 più vai, 50 del capitello sinistra 3, apre buona, 50 e destra 2 lunga gira e apre, accenno sinistro, e al palo sinistra 2 lunga gira e apre, accenno destro, 80 e sinistra piena, dopo stacca destra 2 lunga gira e apre, 100, e al palo sinistra 2 lunga gira e apre, 80 e cartelli rovesci, destra 2 lunga gira e apre, accenno strada, sinistra piena, e destra piena, 50 e al buco destra 3 lunga 10, destra 3 lunga buona, e sinistra 3 lunga vai, e al buco destra 3 lunga, 2 lunga buona, e destra piena, lunga indossa, 10, 50 e al buco sinistra 3 lunga, 1 e 2, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.